Ciao Marco Prunotto, come stai? Io faccio fatica, eccolo, eccolo, eccolo. Ciao Marco, mi senti? Mi vedi? Tutto bene? Sì, ti vedo e ti sento alla grande, come stai? Bene, perfetto. Io ti dico, sto meglio, sto meglio. Sono un po' più felice che il brutto momento è passato e adesso piano piano riniziamo, dai. Come avrai visto, sinceramente, noi abbiamo rispettato tutta la privacy di questo mondo, perché sono situazioni delicate, però sono stato felicissimo di averti al palazzetto, un po' meno felice di averti vestito in quel modo, però capisco che avevi la prima comunione o un matrimonio, non lo so, cos'era? No, allora, ho deciso di vestirmi così, perché secondo me è un evento importante e anche se ero vestito così, ero dietro la panchina che urlavo, se tenevo la squadra. Quindi, poi mi piace, diciamo che mi piace vestirmi in quel modo lì e mi rende, mi fa star bene, però comunque dai, abbiamo vinto, quindi siamo tutti felici e come ti ripeto, speriamo di prepararci bene, speriamo nei play-out. Ci dice il tuo compagno di reparto, che ti sei vestito così, perché sei un bel ragazzo. Io, insomma, se lo dice l'illegale, forse ci possiamo fidare, insomma. Lascio a lui i commenti, se mi date il bel ragazzo. Allora, io ho due aneddoti, innanzitutto per quanto riguarda l'outfit, si dice così nei giorni nostri, l'abbigliamento, devi sapere che abbiamo avuto giocatori americani come Austin Freeman, che anche quando era infortunato veniva alle partite con delle ciabatte improponibili e col calzino, quindi calzino più ciabatta, le ciabatte per andare al mare. Però poi, contemporaneamente, i nostalgici del mondo nero-arancio ricorderanno che un centro di assoluto spessore, secondo me, tu che sei giovane e hai una carriera davanti, potresti guardare i suoi video, perché è un giocatore fortissimo, però Brent Scott, che ho intervistato qualche tempo fa, ricordo che veniva alle partite in compagnia di Brian Oliver con un look molto simile a quello che hai utilizzato tu domenica, tant'è che ho detto, ma guarda tu, cambiano gli anni, cambiano i tempi, però questi lunghi qualcosa portano ancora a casa. Tornando al discorso pallacanestro, ti stai allenando, quando ritornerai? Torni per il play-out, sì? Allora, ti dico, in questi giorni sto facendo tutte le analisi e gli accertamenti del caso. Non voglio dire a nessuno sì o no, perché comunque, stando facendo le analisi appunto in questi giorni, diciamo, non c'è una risposta. Ovviamente io sto bene e per fortuna non sto, dopo i primi giorni di allenamento, che comunque adesso sono una settimana che sono uscito, di camera, di casa, sto bene, comunque riesco ad allenarmi, comunque ci stiamo tutti quanti, anche lo stesso Saverio Neri, che mi sta seguendo giorno dopo giorno, mattina, pomeriggio, e mi sta aiutando, corsa, sai, pesi, palestra e tutto quanto. Però ecco, non ti rispondo alla domanda solo perché non lo so, non lo so e quindi non voglio dire né sì né no. Io quello che mi auguro è che, insomma, che il colpo di mercato non arrivato possa essere Marco Prunotto, perché è un ragazzo che lo merita e speriamo di poterti avere in postseason perché serve tanto. Chi preferiresti, Avellino o Monopoli? Ecco, questa è una domanda che, diciamo, non sei il primo a farmela. E ti dico, sono due squadre che comunque abbiamo già affrontato. Monopoli, comunque, avendola già affrontata due volte, la conosciamo magari meglio di Avellino. Però, allo stesso tempo, Avellino è una squadra molto giovane, dove magari nei momenti cruciali, come me anche perché nei momenti cruciali, poi bisogna avere gli attributi per stare in campo. Avellino o Monopoli? Se devo essere sincero, ti dico Avellino. Io, personalmente, preferirei giocare una contro Avellino, anche perché poi conosco la maggior parte della squadra e quindi sarebbe anche più bello per me, ecco, giocarci con me. Più stimolante, più stimolante. Io, francamente, qualora Avellino dovesse battere Ruvo, cioè, sarebbe veramente qualcosa di fantastico per la Scandone. Io, sinceramente, non credo alla vittoria di Scandone, però mai dire mai, anche perché questo campionato ci ha abituato a risultati molto spesso contro pronostico. Io apro il cassetto dei ricordi e ho parlato con un mio amico della Fossa, devi sapere che sicuramente lo saprai, Reggio Calabria da sempre ha un genellaggio che porta avanti con la Fossa. Io passavo le domeniche mattine, prima di Viola Fortitudo, a giocare a pallacanestro all'aperto con tutti i ragazzi della Fossa negli anni 90 e devo dire, porto con me ricordi indimenticabili. Mi hanno detto che tu sei uno di loro, che tu hai vissuto esperienze con loro pazzesche, bellissime. Cosa porti con te, di quel gruppo là? Guarda, io ti dico, potrei parlarti per ore e ore, perché la Fossa è una esperienza più che una tifoseria. perché io ne stavo parlando proprio pochi giorni fa con un amico e mentre spiegavo gli mi venivano i brividi, perché comunque sono ricordi indimenticabili e poi ci sono stati sempre vicino e quindi anche anche il fatto Fortitudo Milano entra Ettore Messina dalla marea di fischi che c'erano non si riusciva a parlare a distanza di un metro e mezzo, due metri. Era qualcosa di pazzesco, ma cose che io non avevo mai sentito prima e mi hanno lasciato scioccato. Oppure gli stessi striscioni che facevano o quando tiravano giù il telone per tutta la Fossa e poi sotto nasceva una coreografia oppure ti posso dire della festa in ritiro che quella lì l'altra serata è indimenticabile dopo comunque una settimana di allenamento atletica mattina pomeriggio, l'ultimo giorno viene tutta la Fossa a trovarti, si fa festa, presentano la squadra o comunque quando entro l'ultima partita ti assegno un canestro e il boato di tutto il palazzo e poi per me ti dico Bologna mi segna, mi assegnerà e mi ha sempre segnato perché io nasco in Fossa perché a me io ho il mio spirito ultras diciamo nasce in Fossa dove comunque arrivando a Bologna a 12 anni sono andato subito in Fossa perché avevo amici che andavano in Fossa e poi allo stesso tempo ovviamente giocavo con i giovaniti. Niente, nasco, cresco, maturo e poi dalla Fossa mi sposto al campo dentro il campo quindi poi esperienze fantastiche perché io guardavo sempre il posto, gli amici dove comunque condividevo momenti indimenticabili li guardavo, comunque li salutavo ovviamente stavo con loro e dove è possibile magari quando non mi si convocava per turnover andavo in Fossa e la cosa figa e la cosa bellissima era che in Fossa mi, tra virgolette, nel mio piccolo mi si riconosceva e quindi era sempre un saluto, un abbraccio nel mio piccolo proprio nel mio piccolissimo e immagino la stessa situazione che potrebbe vivere un Mancinelli che ha segnato la storia o un Gregor Fusca che mi ha allenato o Carton Myers che spesso viene a vedere le partite cose fantastiche e mi lasciano i brividi sempre ogni volta che ne parlo mamma mia bello, bello, veramente prima hai nominato Ettore Messina mi hai fatto un assist anche se non sei un playmaker perché devo fare vedere questo video qui della gara contro la Luis guardatevelo ci sarà rimessa per la pallaventura con Roveda c'è Frascati libero Roveda no, la passa a Frascati proprio un alley-oop clamoroso un grande fall provera Olimpia Milano libero il quarto quarto qui è il primo ma comunque sia è un canestro bellissimo tra Roveda e Yandefal che sicuramente si saranno godendo contemporaneamente la serie di Euroleague insomma coach Bolignano copia copia sfortunatamente Messina gli copia le rimesse però insomma l'avevate provata tu c'eri ma io ti dico allora io non non essendo in panchina comunque non non sapevo che tipo di rimessa avrebbero fatto e non mi aspettavo una cosa del genere e tutto merito del gran passaggio di Edoardo e poi comunque della conclusione di Yande e non credo che l'abbiano provata quindi una generata del coach e e poi ti posso solo dire che quando hai mandato il video dalla cucina dove c'è Edoardo si è sentito un po' altro perché è stato contento ecco no Edoardo è ragazzo che merita è ragazzo che si sta integrando molto molto bene e a proposito a proposito devi sapere che una delle cause dell'infortunio al mio fotografo Fortunato Serrano sei tu cioè è colpa tua io sì ma sai perché perché lui secondo me non è caduto per il peso della macchina fotografica ma perché era distratto dallo striscione Pruno MVP delle ragazze della palla a volo cioè e volevo chiederti un commento a questo striscione secondo me lo meriti tutto perché cioè in questo momento della stagione stare fuori dal campo lo so che è pesantissima per te che ti stai allenando ti stai sbattendo come un matto all'inizio dell'anno beh ti dico anch'io sono rimasto no ti dico la verità sono rimasto scioccato cioè scioccato nel senso buono perché io avevo visto lo striscione che avevano fatto anche a Edo a Edoardo e e non avevo visto il mio poi ho visto le foto e poi ho visto che comunque mi hanno dato mi hanno regalato lo striscione e sono rimasto diciamo senza parole non me lo sarei aspettato ecco però non cosa è bello è così come il video con Dedica per Fortunato con la speranza che si possa riprendere presto ma era già al palazzetto quindi penso che sia sulla strada del pronto recupero Marco grazie mille un certo al palazzetto è sano no no sta bene sta bene sì 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 sta bene e anzi mi ha detto mi ha minacciato non te lo dico non glielo dire mi ha minacciato mi ha detto stai attento a cosa dici però spero di aver fatto il bravo no ma devi sapere che lui prova a bullizzarti non ricordandosi che sei alto due metri e cinque e scrive auguroni pruno ma i confetti li potevi portare facendo riferimento al tuo look ma purtroppo di stile non ne capisce non ne capisce no ma in effetti guarda li lascio parlare poi si vedrà io con me sfondi una porta aperta poi faremo un'intervista doppia con Brent Scott e parleremo di outfit direttamente dagli Stati Uniti Marco tifo per te torna presto perché te lo meriti e poi speriamo di farci un'altra bella chiacchierata sulla fossa perché veramente anzi un piccolo aneddoto quando ero piccolino devi sapere che no no tranquillo se mi provi a sorprendere deve essere una bella non parlerò di alcol non parlerò racconterò racconterò una storia quando ero piccolino Reggio Calabria la viola Reggio Calabria giocava contro la fortitudo se non sbaglio era l'anno di Eric Mardock che giocava a Miluocchi prima di arrivare alla fortitudo in NBA probabilmente qualche anno dopo Dominic Wilkins l'anno della tripla di Danilovic eccetera eccetera praticamente norme molto molto particolari per quanto riguarda il tipo avversario e nonostante il gemellaggio la fossa i ragazzi e la fossa che erano abbastanza in un numero cospicuo viene messa in tribuna all'ultimo anello del palacalafiore quindi non in curva a un certo punto tirano fuori uno striscione gigante con questa massa marrone con la canotta con scritto Kinder Virtus Bologna fatta benino sembrava proprio quella della Virtus vista da vicino non si capiva cosa fosse allora un vecchietto va da va dai ragazzi della fossa e fa scusi scusi signore le posso fare una domanda ti prego prego ma che cos'è quella cosa marrone un tifoso della fossa prende e fa non vorrei essere volgare ma è dello sterco è uno sterco bianconero gigante e lì insomma tutti a ridere è andata così questo era l'anneddoto insomma fantastici io non ho vissuto purtroppo il Total Chaos però immagino che già che siano gemellati con la fossa anche loro sicuramente avranno regalato perle e se mi dici questo guarda solo in tre secondi mi è venuto in mente la B fatta con scusami il francesismo le mutande rosa poi le stelle per fare la bandiera dell'Unione Europea dove poi la Virtus e qui magari mi prendono degli insulti l'hanno provata a ricopiare ma gli è venuta clamorosamente male e quindi lì la fossa li prendeva sempre in giro poi non ti dico i cori perché io da fossaiolo se così si può dire li so a memoria e quindi guarda lasciamo perdere perché poi magari ce li cantiamo io te ce li cantiamo si 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 poi magari facciamo uno speciale con tutti i fortitudini basta dire a Reggio Calab sarebbe una buona cosa questa qui secondo me però abbiamo l'estate per pensarci adesso pensiamo a mantenere questa categoria che è importante Marco grazie mille per la chiacchierata e ci vediamo prestissimo ti rubo un secondo e solo per salutare i miei genitori a Bologna che so che ci tengono li salutiamo li salutiamo Massimo un bacio un caro saluto ai genitori di Marco ciao Marco alla prossima vi vediamo presto ciao 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 e facciamo tutto il tipo per Marco Prunotto con la speranza che possa tornare quanto prima a dare una mano ai colori nero arancio abbiamo divagato barro